Filippo Rajcic, il nuovo attaccante del Taranto, ha firmato il contratto che lo lega fino a giugno con il rosso-blu. Descriviti come attaccante, quali sono le principali caratteristiche? Sono un attaccante atipico, posso sembrare da 1,90 m, per 90 kg uno che si piazza là e aspetta palloni per tirare in porto. Invece mi muovo tanto, mi piace giocare pallone, mi piacciono i passaggi, calcio tecnico. Però se c'è da fare la guerra, facciamo la guerra. Sono pronto ad aiutare la squadra in qualsiasi modo. Dal punto di vista atletico come va? Se il mister dovesse decidere di mandarti in campo già sabato prossimo nel derby col Foggia, ci saresti? Ci sono, assolutamente. Ora sicuramente non ce l'ho tantissimi minuti nelle gambe, però piano piano ci rimettiamo a posto, ma se posso essere utile anche cinque minuti ci sarò. Una situazione particolarmente delicata quella in cui arrivi a Taranto. Come pensi di affrontarla e di risolverla? Innanzitutto con entusiasmo, perché abbiamo fatto tutto in tre giorni, perché quando ho sentito il direttore che ha chiamato mio procuratore non volevo più stare fermo. In tre giorni abbiamo fatto tutto, perché questa è sicuramente una piazza importante con un stadio spettacolare, che spero da qui alla fine di vederlo almeno quasi pieno. Che significato ha Taranto per la tua carriera? 29 anni, quindi forse è il momento più importante della tua vita calcistica. Sì, dicono che i attaccanti maturano un po' più tardi, quindi 28-29 anni, quindi spero che dopo una stagione un po' così così l'anno scorso spero di rilanciarmi con tanti reti, con tante belle cose qui a Taranto. Della squadra cosa pensi? Hai avuto modo di vederla? I ragazzi li ho conosciuti soltanto ieri, quindi sono quasi tutti giovanissimi che hanno voglia di lavorare, di imparare, seguono il mister, quindi credo che piano piano ci tireremo da questa situazione. C'è stata una staffetta, nonostante tu fossi nel calderone degli svincolati, tra Mantova e Taranto. Alla fine hai scelto Taranto, perché? Perché non la descriverei io, la piazza. Quando arrivi già si respira il calcio, appena vedi lo stadio, organizzazione, vedi che qui si è fatto calcio vero, quindi è quello che ti attira. Ogni calciatore pensa di poter giocare davanti a tantissima gente, quindi non è stato difficile. Spero di ripiegare tutto questo e far contentare i tifosi. Per finire, il tuo personale messaggio alla tifoseria Rosso-Blu? Un messaggio che gli posso dare in questo momento e spero che ci stiano vicini in un momento un po' delicato, ma che vedano l'impegno che ci mettono i ragazzi e sono sicuro che ci tireremo insieme da questa situazione. Grazie a tutti.